Grazie ragazzi, grazie, siamo tornati in diretta qui a The Life Shop del Sergio, Mediaset di più. Io voglio ringraziare veramente tutti voi che mi seguite, ragazzi, siete meravigliosi. Grazie, grazie. Un bacio a tutto il mio studio, a mia staffa, la mia religia, tutti quelli che lavorano dietro di qui e quindi dovete sapere che sono tantissimi, non sono solo fratelli, 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 fratelli di circostanza ma anche di fare detti col cuore perché sono cuotori, truccatori, macchinite. Quindi la prossima settimana a regia, assistere di una regia che lavorano dietro di quinta e che senza di loro non potremmo assolutamente andare in onda. Quindi grazie a tutto il mio staffa, il studio Sergio Live, grazie, 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 grazie. Un bacio a tutti voi che mi seguite da casa ma anche a tutti voi del studio che ci aspitate tutte le sere, tutti i giorni, 20, 24, grazie. Basta con gli ingratamenti, è dovutissimi. Però, allora, noi dobbiamo andare in onda con la puntata, anche se non. Ragazzi, io adesso ho veramente un ospite molto particolare, venuto a trovarci e qui, tra l'altro, lavorano in studio, nel camerino, a Caterina Bazzuco e le farò una bella intervista, le farò una bella intervista perché femmina è legata quando non vado nei nuovi morti a te sempre. Va bene, chi se ne frega, vado nei nuovi morti, mi voglio andare in cima, non ci mandano mai, ci va la luce, ci va la miniera, ci va Provenino, ci va Alvaro Vitali, ci va Pinto Pallino, ci va Vladimir Lucuria, ci va Paolet, ci va... ehi, qua ci va, ci va Vico Foresta, ci vado tutti, ci vado Fari Fiorello, tutti, io voglio andare in nuovi morti. Che devo dire? Come Antonella Clerici, che lei dice a me piace il cazzo, è andata in nuovi morti, ci è rimasta 10 anni, 20 anni. Dovrei dire la stessa cosa, ma io dico, siccome sono una signora, lo dico più legante, devo dire, la mia crescente è così, non 30 anni, non i nostri, ma no, siccome, non l'obiettivo di essere originale, e che cazzo, scusate, siamo in diretta, ma quando ci vuole, ci vuole, quando siamo fuori dalla fascia protetta, quando siamo fuori dalla fascia protetta. Bene, ragazzi, io veramente saluto Noemi Blunt, perché è una mia amica, mi starà seguendo, e sarà davanti al televisore, e le starà dicendo, mi starà seguendo, a vedere l'amica, e quindi Noemi, vieni a trovarmi, come vuoi, non vuoi non venire, vieni, vieni, ciao blog, ed è un'altra cosa, faccio anche uso personale del del tipo cattolico, del tipo catonico, direbbe il grande Paolo Monogist, che tornerà a settembre ragazzi adesso l'ospite sarà qui in studio ma prima un angolo musicale un momento musicale con la demo pente signore e signori grazie nessuno ti giuro nessuno codaci il dono di tutta la vita la gioia è finita che penso con te solo con te è il suo dolcissimo amore soltanto tu fai stato a venire tutto il mio mondo inizia da sé finisce con te nessuno ti giuro nessuno codaci il dono di tutta la vita la gioia è finita che penso con te solo con te è il suo dolcissimo amore soltanto tu fai stato a venire tutto il mio mondo inizia da sé finisce con te grazie bene 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 vai con una scheletta ricchissima però che avremo tantissimi occhi diventati talk finiremo alle due di notte ragazzi io veramente qui abbiamo ai miei cuotori abbiamo curato una scheletta di militare ricchissima abbiamo tante cose da farvi vedere diventare ricchissime come sapete i tempi televisivi sono molto veloci spursate a giocare di toria come dire continuiamo nel sencice no ecco stavo spogliando la mia scheletta stavo spogliando la mia scheletta stavo spogliando la mia scheletta questa chi è? la mia scheletta questa roba e questa è la mia scheletta un gradino un altro gradino per la regnetta non siamo attendi non è non siamo attendi siamo a colorare questa roba Adesso io voglio ingerziarmi in basso con gli ingerzamenti, ma mi faccio il segno se devo dare la mia immaginazione di promozione, se devo dare la mia immaginazione, un dolci collo, cioè a me nel studio, mi piacerebbe più che giocare al trattore e alla malata.